Diamo l'udienza. Aprendo questa udienza, avrebbe dovuto accadere in quella precedente, ma le variabili sanitarie incidono su tutti e anche su questa corte, diamo il benvenuto in ritardo al nostro nuovo collega e mi fa veramente piacere farlo a nome mio e dell'intera corte, è arrivato con noi Filippo Patroni Griffi, che è stato eletto dal Consiglio di Stato il 15 dicembre 2021 e ha prestato giuramento a fine gennaio. Filippo, che io conosco da tantissimi anni, è una persona poliedrica come preparazione, come attività, come risultati della sua attività. Come altri in questa corte, lui ha iniziato il suo percorso come giudice, magistrato ordinario che poi passa alla magistratura amministrativa, Tribunale amministrativo e regionale, Consiglio di Stato, Presidente del Consiglio di Stato. Nel frattempo ha fatto molte altre cose, il microfono non è mai abbastanza vicino, anche che in questa sua diversa esperienza ci eravamo incontrati. Lui è stato capo di partimento degli affari giuridici della Presidenza del Consiglio, capo di ufficio legislativo con più ministri alla funzione pubblica, con me eri capo di gabinetto, mi pare, e anche con altri, è andato anche, e questo lo accomuna a me, a un'autorità indipendente come segretario generale al garante dei dati personali, e è stato anche ministro, oltre che ministro della funzione pubblica, anche sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, mestiere esso stesso in sé poliedrico più di tanti altri che io stesso ho conosciuto. Ma ecco, quello che caratterizza Filippo è che oltre a questa duplice carriera che è in qualche modo, anche se è fatta a molto alti livelli da parte sua, comune ad altri, Filippo è uno studioso il cui contributo si trova ancora oggi su diverse riviste giuridiche ed è un contributo di qualità. Se avesse voluto avrebbe potuto eccellere nel mestiere più bello del mondo, che è quello di professore universitario in particolare. E poi, cosa che mi fa particolare piacere menzionare, ha lavorato molto sui temi dell'integrazione europea, sia come studioso, sia poi svolgendo un ruolo di primo piano nel dialogo tra le corti europee e quindi dedicandosi a l'associazione tra le corti supreme amministrative, di cui è stato presidente dal maggio del 21 e lo è rimasto fino a quando ha lasciato. Sarebbe doveroso, parlandosi di un giudice, ricordare le decisioni numerosissime che ha scritto o alle quali ha contribuito. Ne voglio ricordare una in particolare, perché fu antesignana quella del 2005, poi seguita da altra giurisprudenza, che pose fine a uno degli istituti più inquietanti del nostro diritto pubblico, che era l'occupazione appropriativa, grazie alla quale l'amministrazione, che non aveva completato il processo legale di acquisizione giuridica del bene privato con l'espropriazione, ci faceva l'opera sopra dopo l'occupazione e a quel punto ciò rappresentava titolo per l'acquisizione. Insomma, una supremazia davvero speciale quella che si esprimeva in questo istituto. Già in quella decisione il Consiglio di Stato con il relatore Filippo scrisse che senza il titolo giuridico l'occupazione non poteva essere sanata e il bene doveva essere restituito quale che fosse lo Stato a cui l'opera a cui l'amministrazione lo destinava fosse giunta. Una decisione di civiltà. Poi questa Corte avrebbe invalidato l'articolo 43 per eccesso di deleghe eccetera, ma successivamente la stessa Cassazione, che per la verità in precedenza aveva accettato l'istituto, stabilì fermamente una giurisprudenza contraria all'occupazione acquisitiva. Mi limito a questo. Filippo, benvenuto. Di sicuro darai un contributo all'altezza di queste tue esperienze, une, trine, quadruple. Il poliedrico Filippo è un buon acquisto per questa Corte. ...salutare anche me, anche se anche questo accade in ritardo, ma il Covid l'ha avuto solo lui, però il ritardo è comune. Sì. Grazie Presidente, grazie signori giudici. È davvero un piacere vedervi tutti in presenza oggi, finalmente. È il miglior augurio che potevamo avere. Di fronte alla forza centrifuga che dilatava e diversificava il nostro universo istituzionale, la tutela dell'interesse nazionale non risultò affidata come la Costituzione aveva previsto al Parlamento e al Governo, ma poté contare solo sulla Corte Costituzionale. Sono parole del Professor Amato nella prolusione all'anno accademico 2007-2008 della Scuola Superiore dell'Amministrazione. Ho voluto iniziare con una citazione del Professor Amato anche per rompere il ghiaccio dell'emozione. Io oggi, lo ammetto, sono emozionato perché per me è la prima volta di fare il saluto a un Presidente, il saluto a un giudice ed è quindi veramente un grande onore. Un onore ancora più grande perché il Presidente Amato, lo chiamo Professor Amato, è professore della mia stessa disciplina, IUS 08, diritto costituzionale. Io sono cresciuto all'Istituto di Diritto Pubblico della Sapienza e quindi per me i libri come i rapporti tra norme primarie e norme secondarie del 62, il sindacato di Costituzionalità sulle competenze legislative dello Stato e della regione, l'individuo e autorità nella disciplina libertà personale del 67, l'ispezione politica del Parlamento, cito le prime monografie notissime, erano veramente dei punti di confronto per il giovane dottorando che si stava formando e che iniziava a studiare. Io ricordo che in quegli anni il Professor Amato era impegnato nelle istituzioni e per noi ragazzi che studiavamo per me la prima occasione di incontrarlo, di vederlo pubblicamente fu un convegno a Sorrento. Era il 30 maggio del 1997 il seminario dell'Associazione Costituzionalisti, il tema era autorità indipendenti e principi costituzionali. Il Professor Amato era relatore insieme al Professor Guarino e per noi giovani dottorandi ricercatori fu veramente un convegno indimenticabile, emozionantissimo, su un tema allora nuovo in crescita e veramente fu una di quelle occasioni che ti fanno venire voglia di studiare di più. Vengo al saluto. Il 29 gennaio Giuliano Amato è stato eletto all'unanimità Presidente della Corte Costituzionale dopo un cursus honorum di enorme rilevanza. Il percorso accademico brillantissimo è stato completato con la cattedra a 30 anni vincendo il concorso di diritto parlamentare insieme a Unida e a Tosi a Firenze. Si era laureato a Pisa nel 1960, poi ha conseguito un master alla New York University in diritto comparato, poi ha insegnato a Modena, a Perugia, a Firenze, alla Sapienza di Roma dal 1975, poi all'Istituto Europeo a Fiesole e ora è professore merito. L'esperienza in Parlamento è stata lunghissima, vent'anni fra la nona e la quindicesima legislatura, poi due volte Presidente del Consiglio nel 1992 nel 2000, Ministro per le riforme istituzionali, Ministro per il Tesoro due volte, Ministro per l'Interno, sottosegretario alla Presidenza dal 1983 al 1987. Grandissimo conoscitore anche di istituzioni amministrative, Presidente dell'autorità Garante nel 1994, il secondo Presidente dopo Francesco Saia. Amplissima esperienza internazionale, voglio ricordare soltanto la Vicepresidenza della Convenzione sul futuro dell'Europa che è stato uno dei passaggi fondamentali proprio per la crescita dell'Europa. E poi tutta una serie di cariche e di riconoscimenti, ovviamente lascerò una traccia scritta di questo intervento, lo voglio ricordare come Presidente della Scuola Superiore Sant'Anna, dell'Istituto Treccani e dell'Aspen Institute Italia. Direttore di numerose riviste con moltissime pubblicazioni, voglio fare un'altra brevissima citazione. Era piuttosto la democrazia dei partiti che sorreggeva e permeava in sé la democrazia parlamentare. Certo, per lunghi anni non percepimmo ciò che avevamo perso con l'inattuazione dell'ordine del giorno per assi. Al contrario, usufruimmo del miracolo che i partiti di massa stavano realizzando. Quello di spingere la nostra società divisa a riconoscersi nelle procedure e quindi nei valori della democrazia. Non a caso, ci capita oggi di rimpiangere i partiti di allora, di rimpiangere le loro classi dirigenti, in genere colte, il personale che selezionavano, la funzione che seppe essere di rappresentanza, ma anche di filtro. I partiti esercitavano di fronte alle domande sociali questa funzione, la loro capacità, quali che fossero i partiti, di saper cogliere il confine fra Cesare e Dio. È ancora la prolusione del 2007 e anche qui mette in luce il professor Amato, il presidente Amato, la grande brillantezza, la lucidità, l'approfondimento, la visione, la capacità di cogliere i temi. Le pubblicazioni scientifiche poi sono arricchite con il manuale, il conosciutissimo manuale Amato Barbera, su cui ci siamo formati veramente generazioni di ragazzi e poi tutta una serie di pubblicazioni più recenti. Però mi piace ricordare anche i podcast, perché ho ascoltato proprio in questi giorni con grande piacere il podcast della Corte Costituzionale, soprattutto quello su arte, scienza e libertà di pensiero con Monica Guerritore, perché giustamente i metodi di conoscenza vanno anche aggiornati a quelli che oggi sono i nuovi strumenti. Come giudice della Corte Costituzionale, il professor Amato ha redatto 171 decisioni fino ad oggi, alcune importantissime e conosciutissime. Cito per tutte quella sul cognome della madre, la 286 del 2016, veramente un passaggio fondamentale verso il riconoscimento di un diritto fondamentale al nome per come declinato. Anche qui si può citare un breve passo proprio sul valore dell'identità della persona nella pienezza e nella complessità delle espressioni. Ancora tutta una serie di altre sentenze, come quella sull'accesso al servizio civile per gli stranieri, poi sulle prestazioni assistenziali e previdenziali ai condannati, sull'ordinamento penitenziario minorile e tante sentenze anche sui rapporti proprio istituzionali, perché sappiamo Corte dei diritti, Corte dei poteri e quindi il sindacato dei regolamenti parlamentari, la sentenza del 2014, ancora quello sull'efficienza e la tempestività delle decisioni in materia di bilancio del 2020 e l'ordinanza sempre del 2020 sull'abbinamento tra consultazioni referendarie e elezioni amministrative. La presidenza del professor Amato arriva in un momento cruciale per la Corte. Noi tutti speriamo che sia la fine di questi due anni di stato di emergenza. Siamo al contempo alla fine di una legislatura molto difficile per il Parlamento e per i partiti. In questo quadro di evoluzione per la forma di governo emergono poi anche i problemi del mondo digitale, che stanno diventando sempre più i problemi che trasformano il nostro diritto. E quindi noi siamo certi, come avvocati parlo, che avere il professor Amato come presidente sarà per noi una grande garanzia, una garanzia di fiducia e di accessibilità alla Corte. Ma io in questo saluto debbo unire anche il giudice Patroni Griffi. Il presidente Amato mi ha aiutato già ripercorrendo il cursus honorum. Grande cultore e conoscitore del diritto pubblico. Cito un breve passo della sua relazione del 2011 sulla giustizia amministrativa, quando come presidente del Consiglio di Stato. Se il diritto e la giustizia sono fatti per le persone, far parte di una comunità ci assegna diritti inviolabili e doveri inderogabili, legati dal collante della solidarietà. La solidarietà intesa come bene collettivo, rende possibile la dignità intesa come bene individuale, personale, ma che richiede anche comportamenti responsabili come fondamento della comunità, come patto che leghe i consociati. Una responsabilità intesa come il dar conto di erodoto, che in primo luogo riguarda le magistrature. Il giudice Patroni Griffi segue il liceo Umberto a Napoli, si laurea in giurisprudenza giovanissimo con una tesi col professor Palma a cavallo fra diritto civile e diritto amministrativo, diventa giovanissimo magistrato ordinario, referendario tarra e poi a 30 anni consigliere di Stato. Forse già allora era un napoletano svizzero, come poi lo definirà il presidente paleologo qualche anno dopo. È stato al servizio delle istituzioni, oltre che della magistratura, per tanti anni. Anche qui un ricordo personale. Per me è stato il capo del DAGL nel governo del 2006, nel governo Prodi II. Io ero un giovane capo ufficio legislativo e avere Filippo come direttore del Preconsiglio era veramente una garanzia per noi. Era un governo difficilissimo il governo Prodi II, lo conosce bene anche il professor Amato che ne era ministro, ma il capo del DAGL aveva quella competenza giuridica, quel trapto umano, quel sour fare, quell'ironia indispensabili per dirigere quel consesso difficilissimo che era il Preconsiglio. E veramente, io ricordo, tutte le volte che avevamo un problema andavamo alla stanzetta del quarto piano, d'angolo di Palazzo Chigi, su quei balconi meravigliosi e ci dava sempre un consiglio di buonsenso per risolvere i nodi del governo. In ambito politico è stato già ricordato, ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del governo Monti, sottosegretario alla presidenza, poi presidente del Consiglio di Stato, prima aggiunto poi titolare, presidente dell'associazione che raggruppa le corti europee, poi ovviamente tanto impegnato nella società civile perché uomo poliedrico, giustamente, presidenza del Teatro di Napoli, il Teatro Nazionale, vicepresidenza dello Svimez, giurista raffinatissimo. Io voglio ricordare la sua prima pubblicazione di cui ho trovato traccia, annotazioni in tema di fossi laterali delle strade pubbliche. Diritto e giurisprudenza 1979, tutti noi che abbiamo un primo lavoro, una prima nota a sentenza, spesso su temi minori, ma proprio su questi temi minori si dimostra la capacità poi dei grandi giuristi. Ho scorso tutto l'elenco delle pubblicazioni degli ultimi anni, sembra veramente l'enciclopedia del diritto amministrativo su tutti i temi che ho affrontato, tutti i problemi del processo amministrativo, la tutela cautelare, l'ottemperanza, la decisione, ma soprattutto anche i temi della robotica e del digitale. Qui voglio ricordare che c'è proprio questo contributo del 2018 sulla decisione robotica del giudice amministrativo che mi ha particolarmente colpito perché mostra l'apertura verso i problemi del futuro. Poi ci sono decine di sentenze redatte come redattore, presidente di sezione, presidente dell'adunanza plenarie, alcune importantissime, il termine per l'impugnazione per la giudicazione della gara del 2020, la proroga delle concessioni demaniali del 2021, ma anche sentenze da presidente di sezione come quella sul beneficio soggettivo agli ebrei perseguitati del fascismo del 2018 o anche una cosa importantissima per noi avvocati, la sentenza del 2018 sulla tempestività del deposito telematico. Fa fede l'ora o fa fede il giorno? Fa fede giustamente il giorno e da allora abbiamo più certezza. Concludo. Con un presidente e con un giudice di così alto livello umano, prima ancora che istituzionale e giuridico, noi avvocati guardiamo alla Corte Costituzionale con ancora più fiducia e più autorevolezza, consapevoli che questo presidente e questo giudice sapranno contribuire ulteriormente alla legalità costituzionale e alla tutela dei diritti fondamentali e dei poteri. Formulo, a nome di tutti gli avvocati del Libero Foro, le più vive congratulazioni e il sincero augurio di buon lavoro al presidente Amato e al giudice Patroni Griffi. Buon lavoro. A nome anche di Filippo, che deve stare zitto per il momento, credo che però il suo ringraziamento sia sincero come il mio, l'Avvocato Generale. Grazie, signor Presidente. La cerimonia odierna, come tutte le altre analoghe, è importante e ricca di significato per la Corte, come hanno sottolineato più volte anche i suoi predecessori. Quindi sono particolarmente onorata di associarmi, a nome dell'Avvocatura dello Stato e il mio personale, ai rallegramenti e alle espressioni di stima rivolti dal professore avvocato Alfonso Celotto, a lei come Presidente della Corte e al giudice Presidente Filippo Patroni Griffi. La sua brillante carriera, signor Presidente, è stata ripercorsa in tutti i dettagli sin alla prima udienza del 2013, quando ho assunto le funzioni di giudice costituzionale. E mi piace sottolineare la circostanza che nel 2013 l'indirizzo di saluto glielo aveva porto come Avvocato Generale l'Avvocato Michele Di Pace, che aveva in particolare sottolineato i legami professionali e anche personali che vi avevano legato nel corso delle vostre rispettive carriere. Siccome io ho sempre seguito l'Avvocato Di Pace, come anche l'Avvocato Nino Freni, in tutti i loro incarichi esterni, mi piace ricordare che quando ero un giovane procuratore appena entrato in Avvocatura nel 1984, erano due anni circa che ero in Avvocatura, collaboravo con Nino Freni al Dipartimento della Presidenza per l'approfondimento delle questioni di costituzionalità e lei era sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e mi veniva additata come una figura assolutamente, non solo di grande caratura intellettuale, professionale, ma molto, molto rilevante e quindi devo dire mai avrei immaginato poi che a distanza di anni sarei stata proprio io, come Avvocato Generale, a porgerle saluto come Presidente e quindi questa per me è un'ulteriore circostanza per la quale sono particolarmente onorata di poter prendere la parola oggi. Come dicevo, la sua carriera è stata ripercorsa, è stata ricordata in tutte le sue importanti espressioni, non solo quelle di altissimo livello intellettuale e scientifico, ma quelle importantissime come membro del Parlamento per 18 anni, con i più importanti incarichi di governo e devo dire che anche in un suo incarico di governo l'ho comunque avuto modo di conoscerla perché quando indirettamente, ovviamente, quando lei era Presidente del Consiglio, prese ad interim l'incarico di Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, all'epoca era il Professore Reviglio e quindi con l'Avvocato di Pace, che era il suo capo di gabinetto, noi preparavamo gli appunti per la sua firma, gli appunti li preparavo io, ovviamente la supervisione era quella dell'Avvocato di Pace, però mi ricordo che avevo una grande attenzione e un grande timore a essere ben precisa, ma sintetica, perché lei avesse modo di leggere, ma in tempi ragionevoli. Mi piace ricordare, come già è stato fatto, che è stato Presidente della prestigiosissima Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, come abbiamo visto negli ultimi giorni, è il primo Ateneo che si è classificato nel rating mondiale e questo è un grande successo, è un grande risultato per una scuola che funziona veramente molto bene ed è un fiore all'occhiello per le nostre istituzioni e la sua quindi esperienza, possiamo dire veramente poliedrica, si è sinergicamente intersecata tra il lavoro scientifico e la collaborazione con le più alte istituzioni della Repubblica, ma quello che ho trovato significativo e che mi ha molto colpito in quest'ultimo periodo sono state le interviste che lei ha rilasciato e le motivazioni con le quali queste interviste sono state rilasciate. Innanzitutto la prima, quella immediatamente dopo la sua nomina, lei ha ripercorso tutti quelli che sono i punti fondamentali del lavoro della Corte, passando con assoluta agilità concettuale dal problema dei vincoli di bilancio dell'articolo 81 al problema dei valori che vanno preservati, all'importanza del dialogo con il Parlamento, ma soprattutto mi ha colpito molto quando lei ha giustamente detto il dovere di spiegare quello che facciamo, far conoscere quello che la Corte fa quotidianamente, non per difendersi da eventuali critiche, ma proprio perché è giusto spiegare quello che viene deciso come Corte, come collegio e quindi una grande trasparenza nei confronti della pubblica opinione dei cittadini, perché ovviamente le decisioni non riguardano solo gli addetti ai lavori, ma anche i cittadini e quindi è giusto che tutti siano consapevolmente certi di quello che è il percorso anche logico intellettuale che porta ad alcune decisioni significative. Come ricordava anche il professor Celotto, quella famosissima, la 286 del 2016 e da ultimo con l'ordinanza 18 del 2021 che lei cita proprio nella conferenza stampa, la Corte è ritornata sulla questione, ha sollevato davanti a sì il problema di costituzionalità della norma che in mancanza di diverso accordo tra i genitori trasmette per così dire in automatico il solo cognome paterno. L'attenzione alle pari opportunità in una chiave molto, possiamo dire, speculativa ma anche molto pragmatica e proprio si riconosce quando lei usa un'espressione molto forte ma che è significativa. Le donne, cita tre paesi che hanno una conduzione femminile che sono appunto il Pakistan, il Myanmar, che però non possono garantire la democrazia, quindi sono un momento di affermazione delle pari opportunità, ma poi non basta che una donna sia al vertice, l'importante è che ci sia un sistema che funzioni in senso democratico e d'altronde il problema delle pari opportunità è un problema significativo, lo ha citato anche nel suo messaggio alle Camere il Presidente della Repubblica, ma effettivamente va affrontato con questa intelligenza e con questa visione pragmatica di come effettivamente esso si possa realizzare. Anch'io sono rimasta colpita dal podcast perché in effetti la Corte, come già abbiamo visto anche nelle precedenti occasioni, si è molto evoluta con tutti i sistemi dall'app anche a un sito che è veramente molto ben articolato, che consente una facile anche navigazione all'interno, ma soprattutto si è aperta alla società civile e mi ha fatto piacere vedere che lei abbia visitato insieme con gli altri componenti della Corte non solo il carcere Iribibbia, ma soprattutto quello di Nisida, perché Nisida quando lei ha parlato di pari dignità è un messaggio importante perché sono molto giovani coloro che sono detenuti all'interno del carcere minorile e quindi è ancora più forte il messaggio perché è più facilmente comprensibile. E quindi direi che anche questa espressione di saggezza, di equilibrio nel ritenere appunto che la Corte cerca di colmare quel vuoto normativo, dà un significato e un contributo però naturalmente senza perdere di vista quello che è il ruolo del Parlamento, quindi mantenendo inalterati i rapporti che ci sono tra i rispettivi ordini del potere. E questo credo che sia anche un significato molto forte e soprattutto una lettura contemporanea del ruolo della Corte, pur preservandone ovviamente l'ottica istituzionale, fa in modo che la comunicazione serva non tanto ad avvicinare ma quanto a far comprendere quello che è il lavoro reale della Corte. E per questo che le faccio sicuramente gli auguri più sinceri di buon lavoro non solo a nome mio ma anche dell'Avvocatura. E porgo il saluto anche al Presidente Patroni Griffi che ha giurato il 29 gennaio. Devo dire che il 29 gennaio è stata una data cruciale, non solo per la Corte in quanto dopo il giuramento del giudice c'è stata l'elezione del Presidente Amato, ma nella stessa giornata come sappiamo al Presidente della Repubblica è stato conferito un secondo mandato. E quindi è una giornata che è doppiamente significativa per le nostre istituzioni. E quindi è una coincidenza secondo me non di piccolo conto, è anche un auspicio di buon lavoro e soprattutto di positiva influenza della Corte nel nostro sistema. È stata già ricordata come effettivamente l'elezione da parte del Consiglio di Stato del Presidente Patroni Griffi come giudice costituzionale sia il coronamento di una illustre carriera che si è dipanata lungo un arco di tempo piccolo per tutte le esperienze che ha avuto ma molto significativo. Però direi che mi farebbe piacere prima di ripercorrere anche solo brevemente il suo percorso vorrei sottolineare come il Presidente Patroni Griffi rappresenti una delle più significative espressioni della prestigiosa scuola giuridica napoletana. Il Professor Celotto ha parlato di Svizzero napoletano ma corrisponde a una tradizione giuridica di altissimo livello che direi affonda proprio nelle tradizioni più profondamente culturali di Napoli, sempre attente e sensibile alle arti, alle scienze, alla storia, alla sua storia. Una dimensione che spesso viene trascurata da una narrazione superficiale e riduttiva. E come ricordava anche il Professor Celotto, un prestigioso liceo napoletano dove si sono maturati grandi talenti da un Presidente della Repubblica a un noto regista e soprattutto mi piace sottolineare che abbia rinunciato a quelle cariche sia di Presidente al Teatro Mercanante, sia della Svimez, perché non sono due cariche come le altre, sono due cariche che esprimono l'impegno concreto in favore di una città che ha bisogno che i suoi figli migliori collaborino per restituire quello che la città stessa gli ha dato come cultura e preparazione. Quindi è significativo e importante. Come è stato già ricordato, è stato magistrato ordinario, poi è transitato nei ruoli della magistratura amministrativa, primo del suo concorso. Per una serie di circostanze ho rivisto l'ordine di arrivo di quel concorso e ho visto che il Presidente Filippo Pano Grifisi era classificato primo e l'anno successivo è diventato consigliere di Stato. Mi piace segnalare anche come abbia avuto attenzione all'etica del magistrato. Si è occupato proprio nel corso di formazione per i neoreferendari e neoconsiglieri di Stato in un webinar recentissimo, proprio di dare una cornice a quella che è l'attività del magistrato. È un problema molto sentito, lo diceva anche ieri il Presidente Frattini nel corso della sua relazione, il problema dei rapporti non solo con gli strumenti di più facile accesso come possono essere i social, ma anche all'interno e sotto il provvilo del procedimento anche organizzativo e quindi è importante che sia stata segnalata proprio questa dimensione etica. Vorrei anche dire che il Presidente Patroni Irfi, da Presidente del Consiglio di Stato, ha fortemente voluto che alla cerimonia di lettura della relazione sulla giustizia amministrativa fossero presenti i due rappresentanti dell'avvocatura, sia quella del Foro Libero sia dell'avvocatura pubblica, proprio per segnalare questo rapporto di collaborazione istituzionale e di dialogo costruttivo. Dialogo costruttivo che abbiamo sperimentato nel periodo dell'emergenza epidemiologica, dove insieme abbiamo trovato dei meccanismi che, come è stato anche ricordato ieri, hanno consentito di funzionare, come d'altronde anche la Corte Costituzionale si è immediata adeguata per consentire comunque che venissero svolte le udienze. Questo è un ulteriore elemento che va sottolineato. Una grande attenzione alla dimensione sovranazionale. Io mi ricordo che quando era capo del Dagle abbiamo guardato insieme la questione delle sentenze della CEDU e la difesa da fare in Corte Costituzionale poi culminata con le note sentenze gemelle 347 e 348. E come ha ricordato il Professor Celotto, per me è stato importante, nel momento in cui dovevo preparare la difesa per la Corte, avere un riferimento e un dialogo costruttivo con l'allora capo del Dagle. L'integrazione europea è molto sentita. Nella donanza plenaria recentissima ci siamo occupati, se occupato noi non c'eravamo, di alcune questioni particolarmente delicate che oggi sono all'attenzione di tutti e questa sua attenzione è un'ulteriore conferma della sua politicità. Quindi desidero perciò a nome dell'Avvocatura dello Stato e mio personale rinnovare sia al Presidente Amato sia al Giudice Patroni Griffi i più sinceri auguri di buon lavoro nella certezza che sapranno corrispondere compiutamente alle istanze di democrazia e di giustizia sociale provenienti dalla collettività. Grazie a lei, anche a nome di Filippo per la seconda volta. Grazie a tutti per questo saluto che avete rivolto a noi. Ora sospendiamo l'udienza per alcuni minuti, riprenderemo alle 10.30, questo ci dà anche l'occasione di salutare gli ospiti che sono venuti, vedo lì da tempo la mia vecchia, vecchia, giovanissima Presidente di questa Corte che è venuta nonostante i suoi compiti difficili e ci sono altri che non vedo e quindi sospendiamo e riprenderemo.